Come ti chiami? Sono Ludovica. Mi chiamo Tommaso. Benedetta. Maddalena. Lai. Marco. Quanti anni hai? 17. Ho 18 anni. 17. Come si chiama il progetto? Tinaos. Definisci il progetto in una parola. Ambizioso. Definirei interessante. Creativo. In una parola innovativo. Giovane. Originale. Come è nata l'idea? È nata da un progetto di alternanza. È nata da un progetto in ambito scolastico. L'esigenza collettiva dei ragazzi. C'era un posto dedicato a noi giovani. Già con i miei amici avevo riscontrato che non c'erano luoghi di aggregazione per noi giovani, quindi da questa necessità è nata appunto l'idea. Pensi che l'idea sia valida? Sì. Perché? Perché non esiste ancora su Zara un progetto di questo tipo. Un'idea che è nata da giovani. Credo che possa essere molto rivoluzionario. Un luogo nuovo che ancora non si è visto. E penso che possa essere un incentivo ai ragazzi. Perché una persona dovrebbe donare? Per sostenere il nostro progetto. Coinvolge i giovani che spesso sono trascurati. Una persona dovrebbe donare perché è un progetto fatto da dei ragazzi che hanno molta immaginazione. Fatto da giovani per giovani. Qualcosa che vogliamo fare per tutta la comunità. Con idee stimolanti. Un luogo dove poter mandare i propri figli sapendo che è un ambiente sicuro e protetto. Tutti dovrebbero donare. Quindi donate! Dona anche tu. Donate. Dona anche tu. Dona anche tu. Donate.